Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Quello di oggi è il recap degli Oscar di quest'anno. Parlerò delle mie impressioni riguardo la cerimonia, soprattutto i vincitori, confrontandoli anche con i miei pronostici, trovate il video delle previsioni qui nelle schede. Direi di non perderci in chiacchiere, iniziamo magari subito a parlare della cerimonia, perché per quanto mi riguarda è stata un po' deludente, forse anche un po' troppo piatta, a livello di intrattenimento. Diciamo che c'è stata anche un po' una sorta di disorganizzazione, perché è partita un'ora prima in confronto all'orario prestabilito, e non sto parlando dell'anticipo annunciato mesi fa, ovvero dalle 2 all'1, ma è iniziata a mezzanotte, finendo poi alle 3 e mezza comunque. E in generale mi è sembrata durare molto molto poco. E un'altra cosa che non ho apprezzato tantissimo è la poca suspense tra la famosissima frase Andy Oscar goes to al nome del vincitore effettivo. Non aspettavano veramente neanche un secondo, poi non parliamo di Al Pacino all'ultima candidatura, all'ultimo annuncio del vincitore, perché non so cosa gli sia passato per la testa. Comunque quest'anno, nonostante sul fronte a intrattenimento siamo un po' bassini, direi che i vincitori erano abbastanza prevedibili. E io sono totalmente contento di questa cosa, perché i vincitori effettivamente si meritano di aver vinto, sono lì perché devono assolutamente vincere, non ci sono altri motivi politici o altro, ma direi di andare con ordine iniziando con il miglior cortometraggio d'animazione, ha vinto War is Over, ovviamente sto leggendo perché è un po' improbabile ricordare tutti i vincitori a memoria, soprattutto di queste candidature, del miglior cortometraggio d'animazione non ho visto nessuno di questi film candidati, l'ho già detto nel videoprevisioni, stessa cosa per miglior cortometraggio documentario, ha vinto Dell'Estere per Shop, però non ho visto nessuno dei film, miglior cortometraggio avevo visto The After e La meravigliosa storia di Harry Chagar, che ha vinto il premio, non ricordo se nel videoprevisioni dicevo potesse vincere Wes Anderson, ma credo di sì, essendo appunto uno dei due che avevo già visto, miglior documentario, non ho visto nessuno dei film candidati, però avevo già detto che avrebbe vinto 20 Days in Mariupol, perché parla comunque di Ucraina ed era abbastanza prevedibile in questo caso, miglior film d'animazione, avrei voluto vincesse anche Spider-Man Across the Spider-Verse, però va benissimo anche Il Ragazzo di Lerone, che non ho ancora visto, e questo è un problema, devo assolutamente recuperare, poi gli altri film li ho visti tutti, tranne Robot Dreams, che qua arriverà ad aprile, grande sempre da distribuzione italiana, miglior canzone originale ha vinto Billie Eilish per il film di Barbie, meritato comunque, l'esibizione anche è stata molto molto carina, anche quella di Ryan Gosling comunque mi è piaciuta molto, miglior colonna sonora originale, ovviamente, Oppenheimer, contentissimo anche di questa, perché Goranson ha fatto un lavoro pazzesco con questo film, che New Year's The Music mi risuona in testa ogni giorno praticamente, non solo perché probabilmente mi spunta anche come sveglia, ma per altri motivi. Miglior sonoro, abbiamo la zona di interesse, è abbastanza comprensibile il motivo, ora ho visto il film quando è uscito il video pronostici, ancora non era arrivato nelle sale, quindi sì, per me ci sta che abbia vinto miglior sonoro, perché gioca tutto sul suono quel film, è la cosa più importante, forse il protagonista maggiore è il suono. Migliori effetti visivi, Godzilla minus one, non ricordo se nel video previsioni avessi detto Godzilla, però credo di sì, anche questo non l'ho visto sfortunatamente e in teoria dovrebbe arrivare su Prime fra qualche mese, non lo so, comunque lo recupererò lì. Miglior trucco, povere creature, bellissimo, primo premio vinto e meritato, ovviamente sia povere creature che Oppenheimer hanno sbancato a questi Oscar ed era straprevedibile, va benissimo così, lo ripeto. Infatti, oltre a trucco, povere creature si porta anche costumi, per miglior fotografia vince Oppenheimer, per me va benissimo. Miglior montaggio, qui è strano che non abbia vinto Killers of the Flower Moon, anche se mi va benissimo così per Oppenheimer, ma mi aspettavo che a Martin Scorsese dessero almeno un premio, così anche quello tecnico invece niente, e sinceramente non mi dispiace poi così tanto. Appunto, miglior montaggio vince Oppenheimer, va benissimo. Miglior scenografia, povere creature, mio Dio quelle scenografie mi fanno impazzire, surrealismo, dall'arte moderna all'intelligenza artificiale, veramente fantastico. Miglior film internazionale, naturalmente io tifavo inutilmente per Io Capitano, essendo film italiano, ma ha vinto la zona di interesse, perché trovandosi anche nella lista candidati dei miglior film, era ovvio che avrebbe vinto come miglior film internazionale. Ci sta, a me la zona di interesse è piaciuto, o meglio, non è dispiaciuto poi così tanto. L'idea mi piace tantissimo, ma confessione, mi sono leggermente annoiato, molto molto lento come film, però ripeto che per me è comunque promosso. E ci sta che abbia vinto anche come miglior film internazionale, non solo per come, a livello tecnico, è stato portato avanti, ma per ciò che tratta. Miglior sceneggiatura non originale, American Fiction, per me è un film abbastanza medio. Ho apprezzato la critica, ho apprezzato il fatto che questa critica possa anche in qualche modo criticare la stessa vincita a questi Oscar. Secondo me è leggermente sopravvalutato come film. Miglior sceneggiatura originale, abbiamo Anatomia di una caduta, a me è piaciuto alla seconda visione, perché la prima volta l'ho visto noleggiato su Prime, la seconda l'ho visto in sala in originale, per un evento gratuito, e mi è piaciuto molto molto di più, anche se comunque The Old Overs poteva anche portarsi il premio a casa, però abbiamo avuto la Huller o Justin Trie per questo film, che vi consiglio assolutamente di vedere. Miglior attore non protagonista, felicissimo per Robert Downey Jr., ragazzi non potete capire quanto è stato bello vedergli prendere quest'Oscar dopo una carriera lunghissima, tanti trascorsi anche con altri tipi di problemi, la sua orrenda infanzia, come ha potuto dire lui durante il suo discorso, spero vivamente che adesso nella mente collettiva dell'umanità lui non sia più solo Iron Man, ma sia anche il vincitore dell'Oscar come villain di Oppenheimer, se sempre villain possiamo chiamarlo comunque, antagonista, davvero contentissimo per Downey Jr. Miglior attrice non protagonista, abbiamo Davine Joy Randolph per The Old Overs, lei è stata bravissima, ho visto il film in originale e veramente si è meritata la candidatura e la vincita, non capisco perché abbiano messo Miglior attrice non protagonista come primissimo premio all'interno della cerimonia, tanto che essendo partita anche prima effettivamente dell'orario prestabilito, stavamo quasi per perdere la consegna di questo premio, poi naturalmente per Miglior attore protagonista anche contentissimo per Killian Murphy, per Oppenheimer, strameritato perché il suo personaggio è interpretato in modo magistrale, veramente anche lui era straprevedibile che vincesse l'Oscar e quindi vabbè. Sì, c'è stata un po' una minima sorpresa, ma mica più di tanto perché sembrava veramente che se lo portasse da casa, già l'aveva in tasca, l'ha uscito lui in pratica sul palco. La vera sorpresa per quanto mi riguarda è per Miglior attrice protagonista. Come dico nel video, previsioni, pronostici che vi ricordo trovate sempre sul canale o nelle schede, pensavo fortemente che vincesse la Lily Gladstone per Killers of the Flower Moon e invece ha vinto Emma Stone e non me lo aspettavo veramente, sono contentissimo perché, sì, Lily Gladstone è stata brava, però per quanto mi riguarda avrebbe vinto solo per un unico motivo. Se avesse vinto sarebbe stato per il primato, mi dispiace dirlo ma credo veramente che sarebbe stato così. La prima nativa americana a vincere un Oscar. Non l'ha vinto, ripeto per l'ennesima volta è stata brava, sì, tutto quello che volete, ma sono molto molto più contento per Emma Stone. Io e il mio gruppo non ce lo aspettavamo minimamente e questa è infatti stata la nostra reazione. L'Oscar va a... Emma Stone. Già. E passiamo agli ultimi due premi di questi Oscar. Miglior regia, anche questo secondo me era abbastanza prevedibile, Christopher Nolan, contentissimo perché per me Oppenheimer assieme a Povere Creature, se vogliamo contarlo come film del 2023, anche se in Italia è arrivato nel 2024, sono i migliori film dell'anno. Nella mia classifica mentale se la giocano veramente per pochissimo, sono al pari. Non saprei dire quale film mi è piaciuto di più tra i due, ma potrei anche usare una scorciatoia perché Oppenheimer è il miglior film del 2023, Povere Creature è il miglior film del 2024 per ora. Ci mancano ancora nove mesi di film, però per ora è il miglior film del 2024. Miglior film, appunto, vince Oppenheimer, contentissimo ragazzi, Oppenheimer si è portato a casa sette Oscar, me lo aspettavo, sì, assolutamente, ma va bene così. Ma ragazzi, fatemi sapere con un commento qui sotto cosa ne pensate voi di questi vincitori e vincitrici degli Oscar 2024, vorrei anche sapere da voi quale film avreste voluto vincesse in una determinata categoria o se siete contenti effettivamente di alcune vincite. Mi piacerebbe sapere anche la vostra sulla cerimonia in tutto e per tutto, quindi anche le esibizioni, Angers Can a me è piaciuta tantissimo come esibizione da fan di The Office, gridavo ogni volta che inquadravano Emily Blunt e John Krasinski, ma vabbè, questo è un altro paio di maniche. Carino l'intervento di John Cena che si crede così tanto invisibile da potersi presentare nudo agli Oscar, a parte gli scherzi, sì, alla fine il lato comico non è stato tutto sto granché, ma qualche chicca c'è stata. E niente, vi ringrazio per essere rimasti fino alla fine, in descrizione ci sono tutti i link importanti tra i miei social, il link di Pampling e codice Il Pensiero 4 per avere un paio di calze gratis a scelta. E niente, io sono Andri, questo è stato un altro mio pensiero per voi, noi ci vediamo in un prossimo video, sempre su questo canale. Andri passa e chiude. Ciao.